I sindaci siciliani firmano un'ordinanza con la quale chiudono le scuole fino a domenica. In controtendenza con la scelta del governo regionale, lo ha deciso la conferenza dei sindaci sulla sanità per ciò che riguarda la provincia di Caltanissetta, presieduta dal sindaco Roberto Gambino dopo una lunga riunione dei 140 sindaci della Sicilia collegati in sede Anci. Secondo i primi cittadini non ci sono ancora dati certi sui tracciamenti né sui contagi finché non ci saranno e il ritorno in classe non è sicuro a maggior ragione in quei paesi che sono stati dichiarati zona arancione. La decisione dei primi cittadini della provincia nissana è quella di adottare singole ordinanze sulla base dell'articolo 50 del testo unico degli enti locali che dà facoltà ai primi cittadini di intervenire in caso di pericolo. Abbiamo chiesto all'ASP dati specifici sulla scuola che ancora non sono arrivati, scrivono in una lunga nota. Un rimprovero a chiare lettera all'attività del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP nissena che avrebbe dovuto consegnare le relazioni richieste qualche giorno addietro. Molte le motivazioni per le quali i sindaci decidono di chiudere tra quali anche la mancanta certezza della presenza delle mascherine FP2 e reso obbligatorie dal provvedimento nazionale nelle scuole, anche all'incerta organizzazione dei trasporti per gli studenti e alla carente percentuale di vaccinati nella faccia scolare. Dunque i sindaci nel Nisseno hanno deciso di emettere un'ordinanza di chiusura fino a sabato.